ciao a tutti benvenuti nella mia casa oggi ciascuno porterà le proprie figure geometriche preferite così potremmo fare un mostra e racconta con le figure geometriche che cos'è questo rumore coraggio andiamo a vedere guardate una navicella spaziale oh cielo mi chiedo chi ci sarà lì dentro c'è il nostro ospite speciale topolino marziano direttamente dal pianeta marte c'è meglio c'è meglio ehi là topolino terrestre ehi là topolino marziano oh c'è meglio voglio fare una foto a topolino marziano prendo le macchine fotografie allora topolino marziano che figure hai portato per il mostra e racconta preparati topolino terrestre perché ho portato più di una figura ne ho portate ben cinque ti presento i miei cuccioli marziani ai 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 oi